Elisa Isoardi e il fritto misto alla piemontese Oggi fritto misto alla piemontese è qualcosa che è diciamo tradizionale Fa parte della nostra cultura e della nostra marchia di fabbrica E' vero, allora sono 24 pezzi divisi in 4 portate Allora qua cosa abbiamo? Mele, rane, coniglio Mele, rane e coniglio Filoni, pinocchi, arancino e amaretto Carciopo, lumaca, cervella Qua abbiamo pesca, cavolpiore, fontina Semolino, albicocca, prugna e sibrik di baccalà Devo ammettere che in questo momento non desidero altro che quel fritto